Splende il calendario VIP autunnale del Casinò di Sanremo, un CDA che si dimostra attento sugli eventi, non solo casa da gioco ma anche spettacoli. Sì, diciamo che è un lavoro intenso, già iniziato d'inizio 2016, è un forte lavoro anche in squadra, lavorando il CDA, direttore generale, anche col comune e principalmente con la squadra Casinò. La strategia ci indica che questi eventi, se riportati a un'alta qualità e riportati anche ai desiderata dei clienti, dei vacanzieri, portano una risposta positiva a quello che è non solo l'immagine della casa da gioco ma anche sui nostri risultati. Perciò stiamo seguendo questa strategia che fino ad ora sembra premiare. Abbiamo fatto dei eventi da gennaio a settembre, credo di altissima qualità e su questa base abbiamo anche sviluppato il calendario autunnale che ci porterà da settembre a dicembre. Un volano turistico per la città di Sanremo, ma come sono andati gli eventi fino adesso, dall'inizio dell'anno? Gli eventi devo dire che sono una risposta molto positiva, abbiamo avuto praticamente su tutti loro un sold out, sicuramente un sold out in tutti gli eventi dove abbiamo avuto i grandi nomi sia di eventi di musica o eventi di intrattenimento eccetera. Un sold out generale, questa è una risposta importante che abbiamo visto in questi mesi. Altri grandi nomi inseriti, Umberto Tozzi, Enrico Brignano, Progetto Festival, Jukebox Band, Ipipers, DJ Bennello e gli Intoccabili. Tra i tanti ospiti importanti inseriti appunto in calendario, gli chef Lamantia e Barbieri. Grandi eventi anche in questa stagione con particolare attenzione per la fine dell'anno. Devo dire che fino adesso tutti i grandi eventi che abbiamo promosso hanno avuto la risposta positiva sia da parte dei nostri clienti abituali sia da tutti i turisti che gravitavano a Sanremo. E devo dire che questo ha portato anche una piacevole positività anche sugli introiti, d'altronde l'abbiamo visto molto bene ad agosto. Continuiamo su questa linea, continuiamo sulla linea dei grandi eventi e dei grandi nomi anche nell'ultimo quadrimestre che ci porta proprio a ridosso del periodo poi più importante dal punto di vista produttivo oltre ad agosto che è quello di Natale. Quindi settembre, ottobre, novembre e dicembre vedranno dei grandi nomi articolati su diverse tipologie di artisti. Quindi passiamo dai comici ai cantanti ai grandi chef. Ecco, torneranno i grandi chef, Barbieri su tutti ma anche Lamantia devo dire che farà la sua figura nel nostro roof. Ospiti anche di caratura internazionale, qualche nome di artisti? Come consuetudine abbiamo voluto anche in questo quadrimestre un evento aperto alla città. L'evento aperto alla città lo faremo al teatro con Enrico Brignano che è un nome di grandissimo richiamo. Quindi vogliamo anche qua calamitare tutta quella clientela, anche nuova, anche giovane, che magari non conosce il casino e che ha piacere di passare una serata con i nostri artisti e poi spostarsi a giocare nelle slot e nei giochi lavorati che ci contraddistinguono. Grazie.